Preparo il fornello, vediamo un attimo un po' d'alcol, non tantissimo. Ecco questo è l'oggetto, è abbastanza solido, alluminio satinato, vediamo all'interno, abbiamo una tazzina in plastica, carina, un set di posate in acciaio, coltello, forchetta, cioè cucchiaio, forchetta e il manico, questo in plastica per prendere la padella con le carne. Il coperchio di sopra fa da piatto, adesso passiamo a provarlo. Qui metto circa un 300 cc d'acqua. Ecco. Passiamo ad accendere il fornello. Abbastanza veloce a riscaldarsi. Non ci vuole tanto, prima che le fiammelle cominciano a uscire dai bruciatori laterali, ecco. Ecco. un prodotto fatto artigianalmente. da una buona impressione, la padellina è anche graduata sul lato. 0,25, 0,50, 0,75. Questo è il modello per una persona, ovviamente. ha un costo tutto sommato contenuto, insomma, meno di 8 euro. Non si è visto prima, comunque c'è anche compreso un elastico per tenere chiuso. ed ecco qua i famosi noodle al pollo questa volta. è veloci e pratici, quando l'acqua bolle si mettono dentro, si fanno cuocere 3 minuti, 4 minuti, si aggiunge il suo condimento che è già presente all'interno. e adesso si tratta di aspettare che l'acqua bolle. ci vogliono 8-9 minuti, qui ovviamente siamo in interni, quindi non c'è vento, non c'è temperatura bassa. ci vuole un po' di pazienza, nel frattempo ecco, le posatine all'interno non sono male, sono leggere, sono d'acciaio. direi di fare attenzione a usarle perché, perché praticamente, essendo d'acciaio e la padellina in alluminio, è facile graffiarla e mangiarsi qualche pezzetto di alluminio. insomma via. la forchettina è un pochettino grande, almeno quella che ho trovato dentro io è un pochettino grande. bisogna piegarla un pochettino, ecco, io l'ho piegata un po', il coperchio lo può fare da vassoietto o da piatto. in teoria, forse ci si potrebbe anche friggere dentro qualcosina però, ma insomma. beh, l'acqua comincia a fumare, eh. siamo vicini. eh, questo è il mezzo antincendio. in teoria serve per spegnere il fornello ad alcol. basta metterglielo sopra. il fornellino l'ho fatto con due lattine di birra. ecco, forse dovrebbe essere un po' più alto. eh, bolle, bolle, si si. dicevo un poco più alto il supporto della padella. adesso tuffiamo. eccoli là. la padellina è, anche se è piccola, comunque è abbastanza largo, comodo. per usare il tutto all'esterno ovviamente è meglio avere un paravento. sospettiamo un po' che qua si sistemano. mi sembra, dai. il coperchio poi penso ve lo userò come sottopentola quando la tolgo dal fuoco per, per poterla tenere in mano, insomma. eventualmente tra la pentola e il sottopentola si può inserire uno straccio o qualche cosa. perché tenere la padellina in mano con solo il suo manico di plastica, insomma, diventa scomodo. vediamo una girata qua, perché l'acqua, ecco, cominciano a ammorbidirsi. devo dire che mi piace. io li metto dentro intanto che cuoce, anche se sulla confezione dice di metterli a cottura ultimata. queste sono le spezie, così si insaporisce bene. sto facendo, sto filmato con una camerina nuova che mi è stata regalata, Toshiba Camileo S10. sinceramente in interni fa un po' pietà, eh. ho registrato il firmato in semi HD, cioè non in full HD, ma in 1440x720 se non ricordo male. comunque pur essendo sul cavalletto fissa, quindi non in movimento, si vedono parecchi artefatti. aggiungiamo, aggiungo un po' d'acqua perché mi si sta asciugando troppo, eh. eccola. a me piacciono con un pochettino di brodo. ecco, io mescolo facendo sempre attenzione di non toccare il fondo della padella con la forchettina, che ha delle punte anche abbastanza affilate volendo. è molto leggera, come si vede il manico è traforato. acciaio inossidabile, vabbè l'ho già detto. ah, stanno venendo bene. circa 14 minuti dall'accensione del fornellino, ripeto, qui siamo in interni, quindi temperatura... ecco, la sua pinza. eccoli qua, belli paciarotti. no. direi che va bene. ok, passiamo poi all'assaggio. grazie a tutti. 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 grazie a tutti.